La sua era una inquietudine spirituale, alimentata dall'amore per Cristo, per il Vangelo, per la Chiesa, per la società e per la scuola che sognava sempre più come un ospedale da campo, per soccorrere i feriti, per recuperare gli immargenati e gli scartati. Apprendere, conoscere, sapere, parlare con franchezza per difendere i propri diritti erano verbi che Don Lorenzo coniugava quotidianamente a partire della lettura della parola di Dio e dalla celebrazione dei sacramenti. Tanto che un sacerdote che lo conosceva molto bene diceva di lui che aveva fatto indigestione di Cristo. Il Signore era la luce della vita di Don Lorenzo, la stessa che vorrei illuminasse il nostro ricordo di lui. La sofferenza, le ferite subite, la croce, non hanno mai offuscato in lui la luce pasquale del Cristo risorto, perché la sua preoccupazione era una sola, che i suoi ragazzi crescessero con la mente aperta e con il cuore accogliente e pieno di compassione, pronti a chinarsi sui più deboli e a soccorrere i bisognosi, come insegna Gesù. Accostiamoci allora agli scritti di Don Lorenzo Milani con l'affetto di chi guarda a lui come a un testimone di Cristo e del Vangelo, che ha sempre cercato nella consapevolezza del suo essere pecatore perdonato la luce e la tenerezza, la grazia e la consolazione che solo Cristo ci dona e che possiamo incontrare nella Chiesa nostra Madre.